Sono Alessandro Grego, ho 43 anni e risiedo a Rovigo. Sono papà di una splendida bambina di 3 anni, da anni lavoro nel settore dei servizi e delle imprese, occupandomi di selezione, gestione e sviluppo del personale e di affari legali. Non ho mai ricoperto incarichi politici e nei ruoli amministrativi. Sono candidato alla Camera nelle liste di fare per fermare il declino di Oscar Giannino alla posizione numero 20. Mi batterei per rappresentare al meglio la gente polesana e portare nelle sedi competenti le loro esigenze. Il problema più sentito è quello della mancanza di lavoro che costringe a gran parte di noi ad emigrare in altre province. Pertanto lotterei per creare nuove opportunità di lavoro e di occupazione, valorizzando le nostre specificità e dando impulso a turismo ed agricoltura. Occorre migliorare le infrastrutture e fare marketing territoriale per attrarre nuovi investimenti e per far sì che finalmente possiamo essere orgogliosi della nostra terra. Ritengo sia fondamentale cambiare in toto la classe politica responsabile del declino e del fallimento del Paese. Occorre fermare il debito pubblico con la vendita di immobili di proprietà dello Stato e di società partecipate, tagliare la spesa pubblica in modo mirato o ragionato. Lo Stato spende tanto e male i nostri soldi. Bisogna procedere a una drastica riduzione dei costi della politica, abbattendo i privilegi della casta. Questo servirà per ridurre la pressione fiscale e di lavoratori imprese, aumentando così il potere d'acquisto degli italiani e dando respiro alle imprese che potrebbero tornare a assumere. Occorre attuare una riforma del mercato del lavoro che accorci la distanza tra assunti per tutelati e precari senza protezioni, sostenere il reddito di chi perde il lavoro e aiutare l'ingresso di giovani e donne nel mondo del lavoro. Infine mettere legalità, concorrenza e merito al centro di tutto. Penso che gli italiani siano stanchi di facili ed inutili promesse, a cui troppo spesso non sono seguiti i fatti concreti. Posso solo garantire coerenza, impegno, passione, mantenendo un rapporto costante, diretto, al servizio degli elettori. Penso che un altro modo di fare politica sia possibile e doveroso.